Ma la notte è fatta per amare, per incontri particolari, davanti al rufalo, con donne di dubbia sessualità. Ma la notte è notte fonda, ci si confonde con strane signore. Un produttore, un conduttore, un presentatore, un modello, un giassatore, fa un po' tutto lui. Ha fatto qualcosa come più di 700 film art, però dopo nel 2008, la grande occasione, lo chiama per avere un ruolo importante nel film Il fiore del male, il grande attore e regista Michele Placido. Signori, Adriano Fumagalli. Ciao Adriano. Allora, tuo microfono, te lo lascio un attimino. Ci sediamo per una breve intervista anche con te. Va bene? Allora, Adriano, non possiamo non citare quello che è stato un po' il tuo percorso artistico. Hai iniziato con un certo genere di film e poi sei riuscito un po' a toglierti fuori da questo giro e fare delle cose un po' più importanti che fra poco magari con il regista vedremo sul monitor. Io ho letto un po' la tua biografia. La tua biografia sembra un film, ha tutto come un film. Quei grandi film che uno inizia con qualcosa, poi purtroppo la malattia ha avuto un segno abbastanza importante per te, hai avuto una compagna che ti ha assistito e che speravo di avere anche oggi e poi sei riuscito a fare dei film. Ti sei tolto un po' di dosso quello che era un po' un tuo percorso iniziale, sapendo che anche grandi attori hanno fatto così. Quindi non sei né il primo né l'ultimo. Volevo dirti, con Michele Placida hai avuto un'opportunità e poi per una certa situazione non sei riuscito a fare questo film e quindi sei creato anche un po' in depressione, quello che dicevi tu, e poi hai iniziato. Qual è stato il primo vero ruolo che tu hai avuto come film? Io ho ricominciato nel 2014 circa, iniziando facendo piccole parti anche con Parsate all'inizio, poi ho iniziato con ruoli un pochino più grossi, ho fatto Non Uccidere, sono nel caso di Non Uccidere, ho fatto nel 2017 io tu e David con Max Andrea, Paolo Cortellesi, Luca Argentiero, siamo stati candidati ad Erdoganatello. Sono dei grandi attori comunque. Sì, ho fatto un sacco di trasmissioni televisive su piccole reti, trasmissioni che parlavano a 360 gradi di musica, di arte, di spettacolo. Un po' come facciamo il nostro programma Tiger Show, quindi dove si invitano un po' tutti. Diciamo che era più misto, più tipo salotto. Più misto, un po' a ruota si fa questa cosa. Poi tu hai fatto anche dei spot pubblicitari per dei grandi brand come la Fiat e compagnia. Ho fatto Nesfit, ho fatto lo spot per Dolce Gabbana, ho fatto adesso l'ultimo spot che potrebbe uscire adesso per Galileo, che è un nuovo navigatore moderno. Ho fatto un sacco di cose, ho fatto la scelta impossibile che è un film che è uscito al cinema, stiamo finendo Stamicell, che è un film thriller clinical che uscirà al cinema, ho fatto un film sul nazismo che si chiamava Quigliera Andage, che uscirà al cinema. Hai avuto anche dei premi di riconoscimento per quanto riguarda la tua carriera? Dunque, se si parla della vecchia carriera ho avuto tre hour. Ah, quindi proprio bravo, bravo. Se si parla del vecchio ruolo. Poi sono stato candidato sia come miglioratore a Milano Film Festival e Davide Donatello. E Davide Donatello, quindi un premio non indifferente. Non l'ho avuto però purtroppo, non sono abbastanza conosciuto. Ma da ragazzo tu sognavi questa carriera? Adesso al di là della scelta, sognavi di fare l'attore o no? No, io ho fatto quattro anni nell'esercito, mi sono congedato che avevo 24 anni e mi venne l'idea, dicevo, ma cosa faccio io qua nella vita, un fisico della Madonna, cosa faccio nella vita di quelli di lì, misi i primi annunci sui giornali dell'epoca e incominciai questa carriera appunto di sia come accompagnatore per donne, spogliarellista e anche... Certo, poi tu hai fatto anche lo stuntman, giusto? Sport? Faccio tutt'ora lo stuntman, con la macchina per adesso. Con la macchina? Prima facevo cavallo, moto e sub, adesso faccio solo macchina perché non ho più il fisico. Ma è pericoloso poi o no? Per fare lo stuntman? No, diciamo che noi usiamo comunque tutte le auto già preparate, chiaramente se ti devo andare per due chilometri su due ruote ho bisogno che la coppa dell'olio sia messa in una maniera che non si sfondi, se no la macchina va a pezzi. C'è un qualche attore in particolare che hai fatto un po' lo stuntman o no? Ma io faccio lo stuntman in senso generale, lavoravo ai tempi quando facevo anche l'altro settore, ho lavorato nella piovra, ho fatto lo stuntman nei bravi promessi sposi, faccio uno dei bravi, faccio proprio stuntman dell'attore principale, ho fatto parecchie cose che però non danno risalto a livello, te lo danno a livello economico ma non a livello di visibilità. E tu hai lavorato anche con Siani, giusto? Con l'altro Francesco Siani faccio il polizzotto che lo arresta, gli mette le manette proprio e poi lo trascina via. Ma com'è lavorare con Siani così e con altri attori? Ma guarda, non bisogna mai giudicare i colleghi. No, non è che giudico, non è quello, sto dicendo, lavorare con un artista come Siani, giusto, un regista, e poi non so, un altro regista, magari anonimo, che però si approccia al mondo del cinema, quali sono le differenze? Allora, bisogna fare una distinzione tra cinema indipendente e cinema. Il cinema è business, quindi ci sono personaggi in cui, ripeto, non faccio i nomi che secondo me non sanno assolutamente lavorare, glielo ho anche detto in faccia. Sono intraprendenti, no? Non sanno lavorare, è un po' come la musica, hanno dietro delle grosse produzioni, senza, ripeto, fare nomi, e ho lavorato con tantissimi di questi, che sembrano chissà che cosa, poi in realtà sono un pochino... Invece nel cinema indipendente ho fatto un sacco di film, come cinema indipendente, e trovi degli attori veramente un po' come me, che magari non hanno studiato, non hanno quella postura teatrale, però rendono molto, molto di più a livello visivo, a livello di scene reali, di azione, piuttosto che... Poi ho fatto un sacco di video musicali, ho lavorato con We Pechegno, con Fabi Fibra, con la Young, con le mischilla, ho fatto una maria di roba. Volevo chiedere, a volte si parla di figuranti speciali, figuranti e comparse, qual è la differenza, cioè di importanza fra questi, in questi ruoli? Voi si parla un po' più vicino a questo? Scusami, guarda, il discorso è questo, la comparsa è un riempitivo, ma io sto evitando di farla, assolutamente. La figurazione è quella persona che puoi vedere, tipo che ti passa un bicchiero, ti passa il giornale, nel film lo vedi quei 3-4 secondi, la comparsa non la vedi. La figurazione speciale può avere anche quelli 2-3 battute, puoi essere il portiere dell'albergo, piuttosto che il tassista, piuttosto che, per più ho fatto il caposcorto di Pietro, nell'ultimo film di Accorsi. Stefano Accorsi? Sì, e questa è una figurazione speciale. Poi l'attore è l'attore che in base, a seconda delle produzioni, ha il suo ruolo che può essere primario, secondario, però l'attore è uno che comunque almeno quei 10-15 minuti nel film lo vedi. Ok, tu hai fatto anche teatro o no? Io ho fatto spettacoli dal vivo, abbiamo fatto con il maestro Rodolfo Maria Gordini, ho fatto per 15 volte, abbiamo girato in una specie di teatro-cristorante a Milano, di cui non faccio il nome, giravamo questo spettacolo molto dal vivo, con musica io presentavo, poi c'erano ospiti, c'erano parecchi personaggi che tu avrai o hai avuto qui anche, e ci siamo divertiti per quattro mesi. Era molto live, tipo teatro, però un teatro che coinvolgeva molto il pubblico. Ah, quindi proprio cosa facevi? Conducevi, facevi e coinvolgevi il pubblico da renderli protagonisti nel tuo spettacolo? Sì, diciamo che il protagonista nel nostro spettacolo, la cura era proprio il pubblico, si chiama Va Porta Aperte. A Porta Aperte, ho capito questo. L'idea di fare la regia, la faresti o noto di un film? Io ho fatto, nella vecchia vita, ho fatto oltre 200 film anche come regista, e li ho sempre venduti, e li ho fatti molto bene. Adesso come adesso fare il regista, potrei farlo a livello di indipendente, perché non ho un business abbastanza grosso, perché il grosso problema è la distribuzione, non è tanto produrre il film, ma è distribuirlo. Quindi se hai alle spalle un aiuto, una grossa casa cinematografica, magari fai anche una stupidaggine e funziona. cinema indipendente, io ho fatto dei film molto belli, che hanno avuto un discreto successo, però lavori molto con i cinema, ucci, quelli che praticamente non leggi cinema, e poi inviti la gente. Esatto. Ho capito. E volevo chiedere un'altra cosa, tu hai una compagna, ma anche lei fa qualcosa in teatro, fa qualcosa al cinema, cosa fa la tua compagna? No, la mia compagna ha fatto l'indossatrice e la modella per cinque anni, sei anni. Poi adesso abbiamo fatto Miss Mondo, dove io conducevo, lei era la presidente di giuria, e adesso faremo a breve Miss Grand Prix International, che è ancora più importante di Miss Italia nel mondo, dove abbiamo l'esclusiva, io presenterò, e lei sarà sempre nella giuria, poi dà una mano anche a preparare le modelle, insegna a sfilare, indossare, però è una che non ama molto, a parere. Ah, una che sta un po' con me lei ha fatto, sì, io ho fatto Cani Eroi per la RAI, dove lei faceva mia moglie, io ero diventato cieco, e lei faceva capire alla nostra figlia, che poi non era la nostra figlia, comunque l'attrice che faceva la figlia, che ci voleva un cane per ciechi per me, nei piccoli ruoli ha fatto, però è una che non tiene molto a questa, alla visibilità. So che tu hai anche degli attestati per la sicurezza, giusto? questo è fatto nella tua vita normale, comune? Sì, io collaboro da anni con diverse agenzie di sicurezza, ho l'antincendio di alto rischio dei pompieri, ho il decreto quello dell'ex butta fuori, ed è un lavoro che faccio con passione, anche perché faccio spesso la sicurezza VIP, ho un sacco di foto con VIP, e poi mi è capitato che facendo sicurezza il VIP mi diceva, però cazzo è una bella faccia, si può dire cazzo? Eh, o me l'ha già detto, o me l'ha già detto, quindi non è che... Guarda che faccia che c'ha, facciamogli fare pure una piccola parte, un ruolo, mi è successo con Maggio Capotondo, mi è successo con Fabio Volo, con diverse persone. No, ma questo è un classico, non li trovassi su set, per un motivo, anch'io ho portato mia figlia su un set per un motivo, e poi alla fine, guarda, abbiamo bisogno di una persona, lo faresti? e l'ho fatto anch'io, cioè sono il primo che muore in questo film, proprio della serie, poche sfigato, mi sono trovato al momento giusto così. Senti, nella vita normale com'è Adriano Fumagalli? Ma guarda, diciamo che prima di ammalarmi ero il classico tipo che non rientrava mai a casa prima delle sette di mattina, che come vedeva la donna gli andava dietro, Sì, sì, certo, ho capito. Poi la malattia e la vicinanza, la presenza soprattutto della mia compagna che ha lasciato comunque il suo lavoro, che comunque aveva un ottimo lavoro con la SISAL, lavorava in SISAL, quindi con le scommesse, un ottimo lavoro, ha lasciato tutto quanto, mi è stata vicino due anni, in questi due anni mi sono rigenerato un pochettino, mi sono preso un altro anno sabatico, e poi ho detto proviamo, così, incominciamo a provare a parlatore, avendo avuto anche una grossa esperienza militare alle spalle, sono molto bravo a usare appunto le armi, a fare lo stuntman, queste cose qua, però mi sto anche adattando a ruoli molto più pacati, molto più tranquilli. Ecco, il lavoro che stai facendo adesso, in questo momento? Adesso stiamo girando appunto, stiamo finendo STEMCELL, che lo stiamo girando al Mondino di Pavia, con la regia di Giuseppe Di Giorgio, dove io faccio per esempio il direttore sanitario, quindi è una persona pacatissima, ci sono un sacco di omicidi e nessuno riesce a capire chi sia l'autore, ma non sono io l'autore di Giuseppe Di Giorgio. E adesso, prossimo mese, devo girare con Steve Renzo, che è una produzione però indipendente del Carpenter, che è un film molto forte, dove io faccio il capo di una banda di albanesi. Questo è un ruolo molto forte, è un film che si spera vada poi dopo al cinema. Ma volevo chiedere una cosa, e stiamo iniziando il concorso Miss Camper d'Italia. Ah sì, in contemporanea. Il fatto di avere un tipo di volto, un comportamento così, questo incide molto sul ruolo del protagonista, nel senso di dire io ho questo viso, ho questi lineamenti, ti affidano un certo tipo di ruolo. Poi magari tu vorresti fare qualcosato di diverso. Allora, diciamo che principalmente il mio grande problema è il mio passato. Va bene, ma questo mettiamoci a piedi da sopra e basta. Purtroppo però viene sempre fuori, perché molta gente si è ricordata di me. Allora, diciamo che lui ha fatto l'artista art, giusto? Ha fatto lui, l'altro personaggio come Rock ne fa un portabandiere, è stato il suo successo. E così ci sono, Silvestre Stallone che dice di aver fatto dei film art, ma grandi artisti. Anche Jacques Lomandam. Anche quelli, però diciamo così che loro poi si sono risollevati da questa cosa. Quindi, vabbè, tu hai stato un percorso, lo hai fatto, non so per quale motivo tu hai fatto il primo film. Ti sei trovato così per divertimento, no? Sì, sì. E poi ne hai fatti tanti. Però penso che tu, ho visto la tua biografia, ti sei poi tirato fuori da questo genere di film che magari non appaga a livello artistico, magari economico, punto e ferma lì. Però tu hai fatto delle bellissime cose anche se, diciamo, dei piccoli ruoti nei grandi film, nei grandi sceneggiati, hai fatto delle pubblicità. Quindi ti stai un po' rispolverando di questa etichetta che si dà agli attori hard, giusto? Non credibilità alla fine, Questo? Sì, certo, questo. Per esempio, ho fatto anche lo spot di Rabban Soul, ho lavorato con Doce Cabana, ho lavorato con Exfit. Diciamo che un po' la mia faccia un po' segnata su certi ruoli mi penalizza. Va bene, speriamo che tu abbia un ruolo molto più importante in un grande film e direi di ringrazio Adriano Fumagalli e speriamo di averlo qui la prossima volta per parlarmi di un grande film e di un grande premio. Ma gli Oscar è difficile, però. Vabbè, incominciamo, nessuno mai dire mai nella vita. Ti ringrazio tantissimo. Ti ringrazio molto a te, grazie mille. Ciao. Ciao. Allora, invece adesso per un attimo la mia scaletta. Allora, lui è un personaggio un po' emblematico. Mi piace perché con il suo personaggio intrattiene i piccoli, fa anche delle cose importanti di divertimento, ma è una cosa che mi piace che va nei centri sociali e quindi tiene un po' di compagnia anche a chi vive in questi luoghi e poi mi ha detto che fa anche delle gag comiche. Spini Mazzone. Ciao ragazzi, buonasera. Ciao, ciao. Buon pomeriggio. Sono un po' confusionario vedere queste luci sembra sempre di avere il sole puntato in faccia. Tutto bene, tutto bene. Tutto bene, tutto bene, dai. Bene, bene, buonasera a tutti. Buonasera o buongiorno? Ma guarda, qui c'è il sole. C'è molto sole, c'è molto sole. Sì, sì, sì. Ok. Ah, sì, il presentatore, Vincenzo. No, io mi chiamo Vittorio, tu mi chiamano Vincenzo, poi mi chiamo Vincenzo. Ecco, è un destino. Il dramma di Vittorio, Vittorio o Vincenzo? Io mi chiamo Vittorio. Quindi per tutti i telespettatori lui è Vittorio. Quindi sei un vincente, eh? Diciamo sì, nella vita sì. Ah, bravissimo. Oggi ti voglio stupire, voglio far sì che oggi tu sarai il mago e io sarò il telespettatore. Un applauso. Questa mi manca proprio, questo mi manca. Un applauso, no? Sì, un applauso, Dario, un applauso. Un applauso, Dario, un applauso. Molto spontaneo. Grande regia, grande regia. Niente, vado a prendere i miei arnesi da lavoro, come tu sai, perché, ecco, ma sento un attimino, arrivo, vado lì, vado e vengo, vado e vengo, vado. Tanto la distanza è corta, non è che sia così. Vediamo un po' cosa ci fa fare. Allora. Ok, questo cos'è? Niente, volevo incominciare nel fare una cosa. Mi hanno detto che sei un grande artista, puoi disegnare la tua mano in un pezzo di carta. Va bene. Incominciamo così, subito, subito, subito. Ma sì, dai. È il minimo. i telespettatori, inquadrate bene la sua mano, per favore, inquadrate bene. Abbiamo capito che anche il presentatore sa disegnare, bravo. Non è che vai da carabinieri, no? Perché ultimamente... No, assolutamente no. Bene, bene, bene. Ok, ok. Bellissima mano. To la firmo, a conto di vittorio. Anche la firma, bravo. Allora facciamo una bella cosa. Tu tieni il microfono, ok, mi prendi con questa mano, con questa mano un attimo il foglio, attenzione, perché vado a recuperare un accendino. Scusate le spalle, scusate le spalle. È molto armaggio, eh? Molto. Attenzione, vado a recuperare un accendino. Eccolo qua. Eccolo qua. Spalle molto colorate, comunque. Io cercherò di bruciarti questa mano. Però, un movimento, attenzione, dammi la tua mano, mi raccomando, me la metti qua. Sì. Solo se senti bruciare, devi fare questo movimento. Ok. Ok? Attenzione, abbiamo i pompieri già pronti. Sì, ne è appena uscito uno adesso. Attenzione, mi raccomando, se senti bruciare, tu fai quel movimento. Uno, due, tre, dimmi se senti bruciare. No. Io sì? Guarda, guarda, guarda. Ok, tengo io il microfono, tieni questo. Al mio tre, tu alza la mano lentamente. La destra? Certo, che l'altro è impegnato. alza la mano, fai vedere la mano al pubblico, questa, la sinistra. questa? Ok, fai vedere la mano al pubblico, gira, ok, guardati la mano e guardati il foglio. E come hai fatto? È magia, è magia. Però attenzione, 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 perché non è facile col microfono fare le magie. È arrivato l'applauso del pubblico, molto spontaneo, molto spontaneo, molto spontaneo. Attenzione, io mi sbaglio sempre il nome, Vittorio. Vittorio. No, scusate, Vincenzo, ho sbagliato. No, no, mi chiamo Vittorio. No, no, Vincenzo nel senso è il regista, quello che stava registrando. Si chiama Dario. Ah, Dario, sbaglio tutti i nomi. Attenzione, però Vittorio, perché voglio, è un po' la gola secca, vero? In questo momento sì, è un po' che parlo. potete portare un bicchiere d'acqua? Sì, la mia valletta. Brava Barbara, bravissima. Senti, mi fai un favore? Abbiamo tutto in questo studio meraviglioso, ragazzi, prego, bevi l'acqua, offerta da sottoscritto, da animazione, da qui, spesissima. Dal coso che c'è fuori là, va bene. È normale, gratis. Bene. No, no, non devi sputare il pavimento, devi tenerla l'acqua. No, sai perché? Perché io posso sempre dire, se è gratis si accetta tutto, no? Ah, ecco, ok, ok. Bevila tutta, com'è l'acqua, vero? Bene. È l'acqua del coso che abbiamo qua. È buona, no? Sì, sì, questo aumenta. 17 centesimi al litro, giusto? Non è più buona. Non è più buona. Attenzione, no, tienimi il bicchiere pure. Ok. Mi tieni questo qua. Attenzione, perché oggi ho deciso di farti diventare fontanella umana. Ok. Mi tieni il gomito così. Allora, al mio tre, tu fai così con la bocca. Va bene. Vediamo, fatti un po' più in là, appena appena un po' più in là. Attenzione, attenzione. Allora, fai, apri la bocca, apri la bocca, pensa a un qualcosa, pensa, 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 ok? Rilassati, 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 ok? Rilassati, Te hai rilassato? Ok, solitamente la faccio uscire da un'altra parte, ma non mi faccio. lo stavo pensando anch'io. Siccome siamo in uno studio televisivo. Non si può. C'ho un po' di raffreddore, c'ho un po' di raffreddore, scusami, attenzione, mi metto qua, mi metto qua, c'ho un po' di raffreddore, scusate, mi puoi portare un fazzolettino di carta, attenzione, grazie. Sempre Barbara? Sempre Barbara, dammi anche l'altro, ti voglio ringraziare, grazie. Dopo mi raccomando, dammi anche il tuo numero, eh? Ok. Andiamoci cauti, eh? Andiamo cauti, attenzione, mi raccomando, facciamo una bella cosa. Ok. Io c'ho un fazzolettino di carta, attenzione, guardate bene, tienilo te. Allora, fai quello che faccio io, oggi. Oggi ci divertiamo insieme. Sì, atto che? Fai quello che faccio io, uno, due, tre. Eh, caspita. Regole, è gratis? È zucchero filato, è zucchero filato. Bravissimo, ok, bravo. Dimmi se ne vuoi un altro pezzo. Mi basta. Si basta? Non si parla con la bocca piena? Soprattutto i telespettatori che ci stanno guardando. Attenzione, perché male educazione parla con la bocca piena ma lo dicevano anche a scuola. Bambini, non lo fate mai. Però, ti voglio stupire, voglio farti una domanda. La mangio tutta? Tu sì o no? Cioè, tu mi hai invitato qui per farmi mangiare tutto il rotolo di carta igienica. Va bene, attenzione, uno, due, tre. Uno. Oh, ho, 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 ho. O è, o è, o è. E che, caspita. te ma cosa c'è una ancora 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 allora devi capire che la carta cosa c'è in bocca? è questo attenzione voglio farti una cosa breve una cosa breve questo posso buttarla? si la puoi buttare tranquillamente se la vuoi mettere in tasca no 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 ecco la butto qua attenzione voglio fare una bella cosa una bella cosa proprio bella 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 che a me piace tantissimo mi devi fare un favore mi devi tenere questa canna da pesca grazie eh scusa ti sto dicendo mi devi tenere la canna da pesca me la fai cadere me la puoi prendere per favore ok è in forma sei in forma si si faccio palestra ok attenzione vittorio si mi raccomando me la tieni grazie no scusa dai stai attento ma deve essere un po' più stai attento deve essere un po' più rapido allora stai attento stai attento per favore me la devi tenere grazie vabbè ci rinuncio dai ci rinuncio dai ok allora facciamo una bella cosa guarda bene guarda bene la metto qui si la metto qui attenzione ci mettiamo con le mani così tu con una perché con l'altra c'è il microfono e facciamo a mio tre oh dai vai uno due tre oh fai oh 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 no no perché tu hai guardato la corda fa questo effetto attenzione la Barbara dai ok Barbara vieni qua mi raccomando pensa a un qualcosa di bello ok stai pensando a me allora possiamo un giraccio no ok ok stai pensando a me brava ah pure hai capito attenzione quello che succede poi ne parliamo a casa quello che succede al mio tre attenzione via il microfono alla bocca se no uno due tre facciamo un battito di mani allora non sei stata tanto carica fatti un po' più in là mi raccomando pensa a un qualcosa pensa intensamente guardando lì pensa pensa al cameraman ma che bello ce ne sono due ce n'è uno un po' più spazioso e l'altro un po' meno a chi vuoi pensare dei due ok guardalo intensamente guardalo intensamente ecco quello che succede attenzione però mi raccomando perché io vi voglio stupire oggi ho portato un pappagallo colorato e lo chiamiamo insieme cocorito 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 me lo chiami per favore cocorito cocorito ok tienimelo si dovrebbe appoggiare sulla corda tienimi la corda ok scusami è un equivoco va bene già che sei qua mi vai a prendere quella sacchetta gialla per favore grazie ok poi mi vuoi far due domande si certo facciamo l'ultimo gioco facciamo due domande attenzione poi tu sai che ho portato qua anche un amico che tu sai chi è si si è per quello che facciamo l'ultimo gioco è una grande sorpresa certo attenzione perché questo me lo tieni tu per favore ok scusate tutto in diretta non abbiamo preparato nulla no assolutamente nulla poi è bello l'arte di sapere improvvisare è quello è meravigliosa me lo ritieni ok scusate non so quanto tempo abbiamo ancora perché non riesco a vedere un paio di minuti un paio di minuti poi devo anche intervistarti per cui attenzione me lo tieni tu grazie scusa va che dispettosa che sei facciamo così tienimi in rosa va bene attenzione perché facciamo una rullata di tamburi ok come dire al regista se fanno una rullata di tamburi se vuoi va bene bravissimo attenzione mi giro un attimo che dico due cose a voi allora noi cerchiamo ok ok noi cerchiamo di mangiare un palloncino ok fate quello che faccio io fate quello che faccio io 1,2,3 come mi han detto vai in studio che ti danno anche la merenda ma la merenda non me l'avete data me la sono fatta da me scusami eh ti faccio una cosa volante a breve no perché almeno ti porti a spasso a fare un po' la pipì guarda eh tre volte al giorno non di più perché sennò me lo vizi eh ok bene si chiama Billy tieni grazie prego la mia valletta bravissima ma molto bravissima adesso è la tua e il palloncino verde quale quello che hai ingoiato l'ho ingoiato l'hai detto tu scusa ho ingoiato guarda che è una bella sbarla così eh vuoi provare? no non ci tengo proprio allora ti faccio ti faccio ti faccio un regalo così puoi dire anch'io quando ero bambino volevo diventare zorro e quando ho incontrato un amico ehi l'hai fatto spaventare hai voglia sempre di scherzare tu eh allora ti sto dicendo ti stavo dicendo che la magia comica è quella se non hai più tempo per mi stanno rubando i palloncini no no ma è vero è una è un po' che anche quando viene a casa mia fa così ah ok però attenzione allora un attimo facciamo l'ultimo perché dopo un attimo solo tranquillo 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 volevo volevo dire volevo dire volevo dire vabbè ma l'hanno visto attenzione sai chi ha la lingua più lunga della giraffa? ma sinceramente non lo so tirala fuori tu ma figura tira fuori la lingua va bene tirala fuori tu la vedete lei? attenzione guarda bene guarda bene uno due tre è bella lunga ve lo hai visto ragazzi? bene ma tu mangi tutto ti prego facciamo un applauso a Crispini buona allora grazie di essere venuto qua Crispini mangia pure in goia pura la lingua allora grazie anche a Barbara e farei venire qua in studio il tuo amico per chiudere questa puntata magari la prossima volta viene da noi solo due domande allora diciamo così lui con la sua simpatia gioca per quanto riguarda la magia e poi fa una cosa bellissima quella di intrattenere nei centri sociali le persone attenzione non centri sociali faccio eventi nel sociale faccio intanto se vuoi nel tuo fotografo qui da noi faccio animazione nei vari ospedali in qualche ospedale c'entra anziani per i disabili e faccio animazione per i ragazzi down della polisportiva Olimpia Hollis dove lui ne fa parte come fotografo lui è Daniel Ugoni te lo presento allora piacere Daniele Vittorio buonasera a tutti buonasera Vittorio che dire sono qui ospite per accompagnare Crispino perché lo seguo in tutti i suoi eventi e anche in televisione quando capita tu sei un fotografo di Dante Dive della tv diciamo che fotografo tanti VIP sono richiesto soprattutto per i VIP quindi alla prossima puntata intervini ancora tu se vuoi venire se mi guarda ospite sarò presente con te di sicuro adesso non abbiamo il tempo di intervistarti ma ti voglio ancora la prossima puntata volentieri però per il momento diciamo solamente che chi ti vuole avere chi ti cerca su quale sito su Instagram su Facebook animazione da Crispi posso dare anche il numero di telefono certo dopo te lo do in privato il tuo 348 80 98 890 bene io credo che abbiamo chiuso in bellezza con questi bei personaggi in allegria e alla prossima puntata del Tiger Show grazie ciao grazie mille ciao ciao Vedi, la notte cala sulla città Dorme tutta l'umanità Trana tranquillità Di un mondo di nevrotici Ma la notte è fatta per amare Per incontri particolari Davanti a tu palò Con donne di dubbia sessualità Ma la notte è notte fonda Ci si confonde Con strane signore La notte è notte fonda